Misurazione gratuita della glicemia in Piazza Bra l'11 novembre dalle 8.30 alle 18.30 a cura dell'Associazione Diabetici Verona con la collaborazione della Croce Verde e dei medici e infermieri dell'endroclinologia e ancora distribuzione di materiale informativo e di queste mele, le mele verdi Graham Smith, simbolo della corretta alimentazione. Ci sarà poi una serata di beneficenza il 17 novembre in Gran Guardia a favore delle associazioni per il diabete dell'adulto e dell'età evolutiva. Sono tante anche quest'anno le iniziative offerte ai cittadini veronesi per far conoscere il diabete la malattia cronica caratterizzata dall'aumento della concentrazione di glucosio nel sangue una patologia asintomatica e in continua crescita a causa di errati stili di vita. Il diabete diciamo che è uno dei prezzi che noi paghiamo, chiamiamo la modernità della società cioè una società in cui si fa poca attività fisica perché il lavoro è diventato per quasi tutti i sedentari una società che permette di avere una certa disponibilità di cibo anzi più di quanto non si dovrebbe se ne consuma tutti i giorni e una società quindi che è sempre più ricca di persone che hanno eccesso di peso l'eccesso di peso porta più facilmente il diabete e il diabete sta diventando diffusissimo la prevalenza in Italia nell'arco di 25 anni è salita dal 2,5 a oltre il 6% e questa dà una misura di quanto la malattia sia esplosiva e non è un caso che il diabete sia stato identificato come una delle emergenze sanitarie a livello mondiale. Oltre alle iniziative promosse da Verona Diabete, il progetto realizzato da soggetti pubblici e privati per far conoscere questa patologia, anche Federpharma sostiene la sensibilizzazione offrendo il 14 novembre nelle farmacie di Verona e provincia misurazione gratuita della glicemia compilazione di un questionario per la valutazione del proprio rischio diabete e la distribuzione di opuscoli informativi. Bisogna fare una vita sana, cioè bisogna mangiare di meno sforzarsi ogni volta che ci siede a tavola di dire mangio un pochino di meno senza diventare matti ma un pochino di meno e bisogna imporsi di andare fuori a camminare almeno una mezz'ora tutti i giorni con qualsiasi tempo, acqua, vento, neve, pioggia, coprirsi bene quando c'è freddo e uscire fra l'altro se c'è freddo si consuma di più perché bisogna anche termoregolare per cui bisogna consumare, smaltire quello che si mangia se si accumula peso, soprattutto se si ha una storia familiare di diabete ed è molto comune che uno abbia qualcuno in famiglia con il diabete alla fine il diabete probabilmente viene fuori.